Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, sabato 27 gennaio. Non parleremo delle candidature la notte dei lunghi coltelli che è avvenuta questa notte appunto perché soltanto lunedì si capiranno bene come le sono andate le cose. Per ora vi possiamo dire che ci sono molti giornalisti candidati e molti delusi. Ma sono cose che all'ultimo istante si capirà chi c'è, chi non c'è. Oggi è prematuro farlo. Quello che siamo sicuri che è successo è che Trump è andato a Davos e che con questa puzzetta sotto al naso gli intellettuali pensavano che sarebbe stato un pasticcio questo Trump a Davos, come mettere il diavolo con l'acqua santa. Il diavolo sarebbe Trump, non i miliardari che cercano di attribuire agli altri le colpe loro come avviene tutti gli anni su Davos. Miliardari e leader politici che governano il 90% del PIL del pianeta. Vabbè, comunque Trump va a Davos, dice delle cose di ottimo buonsenso, dice che se l'America funziona funziona tutto il resto del mondo. Non cita e non si caga, come si suol dire a Milano, minimamente la Merkel che aveva detto che ha un grande problema l'America e il suo isolazionismo. Trump se ne frega altramente. E una annotazione che fa Riccardo Ruggeri, più tardi vi metterò il suo cameo come sempre faccio sul sito nicolaporro.it, dice che se la Cina i suoi 350 miliardi di intescambio positivo fossero ribaltati, cioè se gli Stati Uniti avessero 350 miliardi di bilancia commerciale favorevole ai confronti della Cina e se non fosse la Germania a vendere 60 miliardi di merci in più di quanto importa, cioè se invece gli americani riuscissero ad avere un avanzo di bilancio del 60 miliardi con la Germania, Germania e Cina sarebbero così tranquille sull'esportazione, sui dazi e le barriere? Cioè Germania e Cina sostanzialmente utilizzano l'America come un loro grande acquirente, è un grande shopping che comprano merci cinesi e tedesche. Bene, chiede Ruggeri, se fosse il contrario sarebbero così fenomeni, così liberisti, così aperturisti sulle frontiere, posto che secondo me e anche immagino secondo Ruggeri le frontiere devono rimanere il più possibile aperte. Fantastico Trump perché in una notazione oggi sul Corriere della Sera la giornalista nota, ma la sala era piena, ma questo era poco, era difficile far finta che non lo fosse, però la cosa grave è che dal punto di vista degli intellettuali ci sono state file di un'ora per andare a sentire Trump, anche questo è un po' strano per questo fenomeno da baraccone. Nella retroscena della giornalista si dice che in prima fila c'era il premio Nobel Schiller, ma stava lì per caso, per caso il primo Nobel Schiller era come catapultato nella prima fila di Davos ad ascoltare per caso, non sapeva bene chi c'era lì, queste specie di cretini che vengono gestiti, che ne so, dai loro assistenti, ma dai su, non diciamo stupidaggini. Stupendo inoltre la storia che riporta oggi il foglio, ma c'era nei giorni scorsi raccontata da tutti, che è una cretina deficiente, ma una cretina deficiente, che si chiama Nancy Spector. Questa cretina, perché proprio me la vedo, è proprio l'erede di Bernstein, è direttrice del Guggenheim, del museo Guggenheim di New York, al quale Trump chiede un Van Gogh che loro hanno, tra l'altro l'ho visto, è veramente uno dei pezzi più importanti forse di quel museo, per la Casa Bianca, e lei invece di dargli un Van Gogh gli dice che se vuole può prendersi il cesso d'oro di Cattelan, che è una cagata, fa schifo, è una cosa che piace molto a quelli che se ne intendono come Nancy Spector, ma ovviamente non erano le intenzioni di Trump di ottenere questo quadro. Uno può dire, ma che c'entra Trump che richiede i quadri? Obama ne ha richiesti e ottenuti 45 di capolavori da mettere nella Casa Bianca quando arrivano gli ospiti per dare senso e grandezza a un posto che fa schifo come la Casa Bianca, e non è il Quirinale, non è Versailles, è un posto che si può soltanto arricchire delle bellezze che i musei locali, trafugandole, possono portarle nella Casa Bianca. E Nancy Spector, nel suo elegantissimo snobbismo e apprezzamenti che ha avuto dal New York Times e dal Washington Post, cosa fa? Gli dà il cesso di Caterham, che ovviamente Trump non accetta, con questa specie di sberleffo, brava, quindi ti hanno fatto qualche applauso, sarei stata contata le tue cenette nelle penthouse di New York, sono stata dura contro Trump, sta cretina. Uno dei pezzi che mi hanno fatto divertire, perché mi hanno dato l'idea della stessa arroganza intellettuale, è quella dell'amministratore delegato di Italy, che voi conoscete, tante polemiche su Farinetti, bene o male, c'è una fattura a 500 milioni di euro, mi sembra che il margine è passato da 0 a 20 milioni di euro, quindi non è che guadagni molti soldi, però insomma sostanzialmente è una bella iniziativa imprenditoriale, uno può pensare, ci sono state critiche, ma quando tu senti l'amministratore Andrea Guerra oggi, che si deve occupare di quotare questa società, perché questo deve fare, questo mi ha detto Farinetti le tante volte che ho occupato, che dice, no, noi non ci quotiamo per i soldi e per i numeri, ma sapete per che cosa si quota Italy? Per un progetto culturale, giuro, giuro, ma se uno viene portato là a fa' finanza, ma non ti vergognare, hai preso 20 milioni, 15 milioni di stock option, cosa che noi non vedremo nella nostra vita, e io le giustifico se hai fatto bene a luxottica, ma l'ha presa per il culo insopportabile, perché quotiamo Italy? Perché per un progetto culturale, un progetto culturale magari ci pensa, non so, Farinetti a farlo con Fico, cercando di capire con i suoi stakeholder politici locali, di dargli quei fantastici luoghi pubblici, ma il progetto culturale, ma perché ci deve prendere per i fondelli? Perché questa è la rabbia, perché tu prendi Guerra e prendi Nancy del Guggenheim, che regalano il cesso a Trump, e pensi che questi godono di miliardi di finanziamenti, di soldi, di stock option, poi pensano però che questa roba gli fa talmente schifo che ci deve essere un progetto culturale. Bellissimo, oggi, Vittorio Maciocce, perché oggi sul treno c'è questa foto in cui si fa vedere che è stato sorretto da una zeppa, tipo insomma di legno, tipo quello che si mette sotto i tavoli nei ristoranti di serie B, e questa potrebbe essere stata una delle cause del deragliamento. Bellissimo, aggiungo il foglio di Maciocce di oggi, che fa un pezzo difficilissimo, perché è difficile sostenere questa tesi, ma che io condivido e apprezzo che il coraggio di Maciocce non solo colpe, anche il destino può deragliare. Non esiste un protocollo di una vita senza rischi perfetta, perché se mangiamo bene non ci viene il tumore, se corriamo non ci viene l'infarto, se andiamo a fare tutte le manutenzioni non c'è il deragliamento. È drammatico, ma quello che dice Maciocce vale la pena di leggere. Invece è drammatico, da un altro punto di vista, la trattativa Stato-mafia, su cui si interroga il fatto da anni ci rompono le balle, 15 anni per Mori, che è stato già assolto tre volte richiesta di 12 anni per Dell'Utri, che è già in carcere, per associazione esterna, e sarebbe il mediatore con Berlusconi, perché Berlusconi avrebbe fatto delle leggi che hanno avvantaggiato la mafia. L'attuale candidato presidente del partito di Sinistra e Libertà, che si chiama Grasso, quando diventò direttore dell'antimafia generale, disse che le leggi di Berlusconi erano leggi che combatterono molto contro la mafia. I suoi nemici del procuratore Grasso, che sono Di Matteo e compagnia cantante, invece dicono che Berlusconi ha agevolato la mafia con le leggi e il mediatore è stato Dell'Utri. E all'interno c'era anche Mancino, che per falsa testimonianza deve essere condannato a sei anni. Questo è un processo farsa, per cui però permette ai nostri giornalisti, in maniera, secondo me, disgustosa, di poter dire ancora su Mori, che è stato assolto tre volte, che ci sono ombre sul generale Mori. Assolto tre volte, ha pagato con la sua vita, con la sua carriera, con i suoi avvocati, con i suoi soldi. Questa guerra giudiziaria è stata sempre assolta, dopo che si è assolto, per il fatto che c'è stata un'accusa c'è un'ombra. Ma se l'accusa è sbagliata, tu hai un'ombra anche se viene assolto. Questo è il sistema italiano, per cui non esci dall'accusa di mafia anche se viene assolto. Da queste costruzioni per cui i magistrati hanno detto, non c'è un singolo fatto criminoso, ma una strategia stragista. Non è che si sono adoperati per un singolo fatto, ma è una strategia perché si inquadrino le stragi. In questa maniera siamo tutti condannati, anche io col mio pensiero. Quello che sta succedendo in Sicilia è un orrore della giustizia. La Buongiorno fa quello per cui è specializzata, cioè querela il fatto e la Lucarelli, perché il fatto ha pubblicato il pezzo di Selvaggio Lucarelli, in cui Selvaggio Lucarelli gli si limita a dire che il sito fatto da lei e della Utsinger era intelefonabile nelle ultime settimane. Lei ha fatto delle telefonate e non gli hanno risposto. E poi c'è una valanga di persone che hanno detto di essersi rivolte a quel sito che non hanno avuto nessuna risposta o l'hanno rivolta in maniera poco tempestiva. Questo oggi scrive Selvaggio Lucarelli riportando nomi e cognomi di tutte queste storie. E non solo li riporta tutti questi nomi e cognomi. Queste robe qui sono anche presenti nel sito. Poi dice che il sito non era attivo, che nel sito c'erano le pubblicità e poi si lamenta sul fatto della scarsa tempestività. Cosa fa la Buongiorno? Querela. Beh, guardate, io sono abituato alle querele della Buongiorno perché il giornale fu tempestato di querele sulla Buongiorno. Sapete per che cosa? Per un'altra cosa, per cui noi eravamo la macchina del fango. Quelli che non amano la Lucarelli, c'erano tanti qua sotto che mi insultano perché io sto attaccando la Buongiorno per motivi personali. Io dico sì, io attacco la Buongiorno non per motivi personali, ma per motivi etici di un giornalismo che secondo me non può essere sempre vittima di querele intimidatorie che poi vanno a finire nel nulla. Perché quando noi dicevamo che Fini sapeva della casa a Monte Carlo, dicevamo il vero. Quando noi dicevamo che Tulliani era un prestanome delle due società offshore, dicevamo il vero. Quando dicevamo che c'erano soldi sporchi in quella vicenda, dicevamo del vero. Allora, tutte quelle querele che ci siamo presi e l'accusa di stalking che ci ha dato Bocchino, accusa che poi ha rimesso, mi fanno pensare oggi che gli avvocati, invece di pensare di fare come la Buongiorno, di cambiare, di passare da Fini alla Lega, di passare da Andreotti a Fini e poi alla Lega e di querelare tutto il mondo, pensasse di essere un pochino coerente nei suoi comportamenti. Basterebbe questo. Io spero che dire all'onorevole Buongiorno, all'avvocato Buongiorno, di essere un po' coerente, non mi procuri l'ennesima querela. Straordinario. Oggi Ricolfi, sul messaggero, spiega perché la flat tax non è un modo per togliere ai poveri e per dare ai ricchi. Anzi, sostiene che è una scemenza. Scemenza. Questa del Robin Hood, al contrario, come l'ha definita Renzi. L'altra cosa che dice Ricolfi è che la flat tax è progressista, è progressiva, cioè rispetta il dettato della nostra Costituzione. Chiaro? Queste due cose, leggetevi Ricolfi, le capirete una volta per tutte. E c'ha dei dubbi sulla flat tax e sono molto ragionevoli sul fatto che faccia emergere quel gettito di cui il centrodestra è sicuro che possa far emergere nei prossimi anni, se venisse applicata. Quindi il pezzo di Ricolfi oggi mi sembra il pezzo migliore mai scritto sulla flat tax. Infine, un'ultima questione personale, io oggi sul giornale, sapete che non cito i miei pezzi, ma vi cito l'incubo, l'inferno di avere un conto PayPal quando ve lo bloccano senza motivo con per di più i vostri soldi su quel conto. PayPal, come sapete, è un intermediario dei pagamenti che avviene su internet, pubblicherò qui su Facebook e sul mio sito perché su PayPal il conto non finisce qua. Vi do appuntamento a domani con la zuppa di porro e come sempre buon sabato e domenica. Condividete la zuppa se vi piace. Ciao!